Che l'Italia sia il paese delle eccellenze e cosa nota, pensiamo solo alla gastronomia in tutti i suoi aspetti, ai prodotti vitivinicoli, alla moda, alle quattro e due ruote, alla nautica, al design e potremo continuare a lungo. Ma da qualche anno ci sono dei prodotti made in Italy che proprio non ti aspetti, ma che hanno conquistato il mondo. Prodotti che non sono nati nella penisola, ma che qui hanno trovato il modo di diventare eccellenza. Anni fa è stata la volta del caviale, dove primeggiavano i russi ai paesi che si affacciano sul Mar Caspio, poi imprenditori del Bresciano hanno iniziato ad allevare gli storioni bianchi del Pacifico ed è stato un successo mondiale e siamo diventati tra i maggiori esportatori di caviale. Ora invece si sta facendo strada a un mollusco tipicamente francese, l'Ostrica. Viene allevata, ben 200 tonnellate l'anno, dalla Sardegna alla Spezia, dall'Adriatico ad un luogo molto particolare, il Delta del Po, già famoso per la produzione di vongole verace e di cozze molto gustose. Qui è merito della cooperativa dei pescatori e di un signore che è riuscito dopo anni di sacrificio e di studio a coltivare un'Ostrica rosa Tarburièche, più carnosa delle altre. Grazie alla sua passione, ma anche alla tecnologia, perché nella sacca Scardovari, all'interno del parco del Delta del Po, è riuscito a simulare le maree con un'app, pannelli solari e gabbia in verticale per l'allevamento. E così le ostriche salgono e scendono nei tempi programmati e dopo 18 mesi e non poco lavoro, ecco il risultato, ostriche polpose ora considerate tra le migliori del mondo.